36 e 87 è il tempo indicato dal cronometro Filippo Melidoro e Argento di Savucci il terzo binomio in questo barrage Filippo Melidoro ed abbiamo il buono riferimento 33 secondi ed 88 Filippo Melidoro va in comando della classifica provvisoria quando ancora mancano due binomini per il barrage di questo gran premio Anche